musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi oggi non c'è la live eh lo so ragazzi oggi non c'è la live perché siamo al Games Week di Milano ma non vi preoccupate che sempre in questo canale trovate gli aggiornamenti su Fortnite su quello che sta succedendo, su quello che si sta modificando quindi ragazzi mi raccomando vi invito subito a lasciare un bel like se vi piacciono i miei video e soprattutto dai 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 iscrivetevi al canale ragazzi supportate, supportate questo canale voglio parlarvi ragazzi di alcuni aggiornamenti futuri e che ci sono già stati su Fortnite abbiamo visto come l'altro ieri c'è stato un altro mini aggiornamento la mini patch 6.1.1 che ha portato alcune migliorie e alcuni fix di bug che sinceramente andavano assolutamente sistemati voglio subito parlarvi ragazzi però di quello che è uno dei file più particolari di gioco che ancora non si sono visti ma che è stato comunque modificato e sto parlando proprio ragazzi delle Prickly Pier questo è un post, un tweet mandato direttamente da uno dei data mining mondiali su Fortnite che dicono Prickly Pier te lo traduco direttamente in italiano le pere sono no le pere le pere sono state aggiornate un'altra volta solo che non sappiamo quando verranno rilasciate e in quale update praticamente ci fanno vedere sotto come nei file di gioco ci sia proprio il cambiamento delle stringhe di codice dell'Athena 4Age Heart Heal praticamente vorrebbe dire una cosa non si è capito se questi nuovi consumabili queste nuove pere consumabili diano danno al giocatore invece che dare salute non ha molto senso pensata così però sembrerebbe che sia il primo consumabile che possa danneggiare la salute del giocatore ma non sappiamo in quale modo uno perché uno dovrebbe prendere una pera che lo danneggia piuttosto che una mela che gli dà la salute quindi ragazzi o sono un consumabile di Halloween però tutti ci aspettiamo che su Halloween arrivino più che altro le caramelle piuttosto che le pere nel senso o avranno magari un effetto a sorpresa nel senso tu prendi una pera può o danneggiarti o darti un bonus che però deve essere abbastanza importante ovviamente ragazzi staremo a vedere ma di quello che vi voglio parlare ragazzi è il cubo ragazzi l'isola sul cubo che più continua ad andare avanti più continua a muoversi e più comincia ad aggiornarsi abbiamo visto come ci sono state delle importanti modifiche dopo che l'isola si è fermata sulla seconda runa e ha fatto tutto il suo lavoro che doveva fare è cominciato ad apparire uno strano liquido viola dall'isola e si vede sempre di più che queste specie di masse di colore viola della forma cubica stanno prendendo il possesso della casa stessa quindi tutti ci stiamo chiedendo ma porca miseria che cosa succederà a quest'isola diventerà un cubo gigante oppure diventerà magari una fonte di energia che possa distruggere veramente dividere in due la mappa o semplicemente esploderà alla fine del giro delle settime rune rilasciando tutto il discorso del portale oscuro addirittura nella stagione numero 7 secondo me ragazzi secondo me io credo che arrivando verso la fine della season 6 succederà qualcosa con l'isola e con la casa o tra virgolette il cubo che oramai si sta trasformando non credo che vedremo molte cose durante questa season così loro prendono un pochettino di tempo anche perché stanno già lavorando sulla season numero 8 c'è da dire che però è veramente un bel film quello che stiamo vivendo con fortnite queste cose strane che appaiono nell'isola quando meno ce lo aspettiamo ragazzi ovviamente staremo tutti a vedere che cosa succederà ma non ci fermiamo ragazzi perché gli update sono ancora tantissimi e voglio parlare ragazzi torniamo intanto sull'immagine di prima di un altro update che è quello appunto dell'isola che vi ho appena detto ma quello dell'update 6.0.1 che dice 6.0.1.1 che dice che hanno anche stabilizzato un sacco di crash che succedevano quando entravamo in fortnite succedeva spesso dicevano per i giocatori di switch e di console e tra l'altro oltre ad avere stabilizzato questi crash hanno anche fatto delle migliorie per quello che riguarda il sub matchmaking ma ve ne parlerò un pochettino più avanti anche perché adesso ragazzi parliamo anche di un'opzione interessantissima che è quella della nostra possibilità di modificare il parco giochi ragazzi e lo andiamo a vedere assieme allora perché finalmente sono arrivate delle opzioni interessantissime che possono regalare nuove emozioni sulla modalità parco giochi e come state vedendo ragazzi ecco qua basta solo che noi andiamo nella sezione parco giochi e prima di cliccare sul tasto accetta guardiamo su opzioni personalizzate dove si apre un pop up che ci dà un sacco di scelte per poter modificare le nostre partite a nostro piacimento come vedete la prima scudi scudi vuoti vuol dire che si coincia solo con la salute si comincia tutto full o si comincia con la piena salute e mezzo scudo come vedete la seconda riga salute completa mezza salute oppure una salute penso che vuol dire che ne hai due in poche parole cioè tu parti con uno e poi hai ancora la tua salute rilascia oggetti all'eliminazione è palese quando moriamo possiamo decidere se appunto farli cadere o se tenerli ed è interessantissimo per le partite competitive tra gli amici ci sta a tenersi i propri oggetti danni da caduta o si o no e la figata ragazzi è anche la gravità perché possiamo anche decidere come vedete di utilizzare un sistema di gravità che ci permette di muoverci molto molto più in maniera particolare come vedete le opzioni sono basso normale molto basso quindi interessante il fatto di poter giocare come se avessimo una gravità molto molto particolare e come vedete abbiamo anche la possibilità di modificare l'orario quindi il tempo in cui stiamo giocando possiamo giocare di giorno possiamo giocare di notte che è veramente spettacolo anche perché non succede spesso di chiudere le partite su fortnite di notte o comunque la notte passa abbastanza velocemente e per chiudere ragazzi nomi dei giocatori e luoghi come vedete solo squadra se per caso siamo in un team possiamo anche decidere di non farli mai vedere o di decidere di farli vedere tutti ma c'è ancora tanto di cui parlare ragazzi c'è ancora tanto perché gli update non sono assolutamente finiti ed infatti proseguendo ragazzi vediamo anche quello di cui vi anticipavo qualche minuto fa cioè il nuovo sistema di sub matchmaking delle regioni cosa vuol dire semplicemente vuol dire che con questo piccolo update da adesso quando entriamo in un server dove pinghiamo bene il nostro sistema e fortnite non fa più la ricerca del primo server disponibile nella stessa regione ma tiene comunque la connessione con il server che vi sta pingando meglio questo è una figata perché magari vi si aumenta leggermente il tempo di matchmaking ma vi si riduce di brutto il sistema del lag nel senso non come dire voi vi allacciate ad un server europeo cioè il server che vi pinga 20 il server che vi pinga 50 se voi vi allacciate ad un server che vi pinga 20 il gioco vi tiene sempre al server che pinga 20 e vi fa giocare con tutta la gente che pinga 20 questo vuol dire anche che se noi giochiamo in un server dove c'è gente che pinga 15 e noi pinghiamo a 40 e ci becchiamo uno contro l'altro è ovvio che loro abbiano là il vantaggio del ping quindi una risposta più veloce rispetto a noi noi non ce ne accorgiamo ma è così ed è sempre stato così in tutti i videogiochi ed è una grandissima grandissima figata e per arrivare ragazzi alla conclusione abbiamo anche un grandissimo aggiornamento su console ragazzi hanno deciso di dare finalmente una svolta ai metodi di costruzione per i giocatori da console quindi se non ricordo male quando utilizzate un controller per costruire dobbiamo premere due volte R2 quindi una volta selezioni una scusate basta solamente la pressione del tasto R2 per la costruzione ed è veramente una cosa comodissima perché vi migliora e vi velocizza sicuramente tutti i vostri build beh ragazzi io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando un bel like se vi piacciono tutti gli aggiornamenti sia piccoli sia grandi che arrivano su Fortnite non vi dimenticate di iscrivervi al canale e noi ci vediamo domani mattina con i fan ciao ciao